Alessandro Raffa ancora sta dormendo? Stai in coppia Stai in coppia Marco Leni, il tuo sponso Questi escono di notte e fanno paguordi e poi, come si dice, di notte leoni Il giorno... Il giorno... Il giorno... Il giorno è sempre... Alessandro Leni ci parlerà di alcuni trattati, no? Perché i governi trattano Quando trattano, poi lo mettono per scritto, codificano Una volta lo chiamano Versailles Una volta lo chiamano Lisbona Ma c'è molta differenza Ora lo vediamo Nel... Il 23 dicembre del 99 Sintetizzando il XX secolo del II millennio L'Economist ha chiamato Il trattato di Lisbona il crimine decisivo Il trattato di Versailles il crimine decisivo Perché vorrei un attimo adesso partire da questo trattato Il trattato di Versailles è il trattato A conclusione della prima guerra mondiale Iniziamo subito col dire che Il... La propaganda, la guerra psicologica Hanno inizio proprio con la prima guerra mondiale Prima esistevano imperi multinazionali Il potere era dato da un dio O da un re Cioè, un re Quindi non veniva dal popolo E non c'era la necessità Quindi di avere Il consenso della popolazione per avere il potere E non ci sarebbero i sudditi fedeli Poi iniziano le idee luministiche Le idee democratiche Questo cambia E con la prima guerra mondiale Per la prima volta si ha l'esigenza Di coinvolgere tutta la popolazione in una guerra Con lo sviluppo delle idee democratiche E la necessità di ottenere il consenso della popolazione Negli stati democratici per avere il potere Si sviluppano anche tutte quelle che sono quelle... La psicologia comportamentale Prima c'era solo una psichiatria criminale Si studiava il criminale ma non si studiava la massa Con questa nuova esigenza gli psicologi iniziano a studiare la massa Cioè iniziano a studiare come psicologicamente regisce la massa Perché è importante? Perché se il mio potere deriva dalla massa Io devo sapere come rapportarmi con lei Anche come manicolare Scoppia la prima guerra mondiale E' la prima volta che si ha l'esigenza di coinvolgere tutta la popolazione in una guerra Quindi non solo gli eserciti ma anche le elettrovie Le industrie La prima agenzia di propaganda Istituita da Wilson nel 1916 Qui aveva stato eletto garantendo che se non avrebbe portato gli stati uniti della guerra E aveva bisogno di avere il consenso della popolazione per entrare nel primo conflitto mondiale La propaganda che applica tutte quelle regole psicologiche Che nel secolo precedente erano state sviluppate Le bomb, ballo, psicologia del massimo, psicologia comportamentale E' così efficace Che in soli sei mesi negli Stati Uniti La propaganda iniziò come antitedesca Non solo iniziarono a sorgere diverse decine di associazioni patriottiche Ma si scatenò un odio così profondo nei confronti del popolo tedesco Che addirittura impedirono all'orchestra di Bostro di fare Pensate a che livelli Quindi scoprirono questa arma straordinaria Perché vado a Versailles? Ora ve lo spiego subito Nel 1918 l'esercito tedesco è economicamente stanco Ha quasi esaurito tutte le sue risorse Ma militarmente è ancora ben messo Alcuni territori occidenti, oriente, i Balcani sono suori Economicamente però è stanco I soldati normalmente molto precisi iniziano addirittura ad esaltare a mucchi Quindi Wilson dice Fermiamo la guerra Io mi presento con questi 14 punti Fermiamo questa ammestizia Leggono questi 14 punti e decidono di accettarli La guerra finisce Questi 14 punti arrivano Poi devono essere trattati dai popoli vincitori L'idea dei 14 punti Arriva a Versailles Al tavolo dove si tratta la pace E vengono completamente strabocchi Completamente Le persone che sono al tavolo della pace Non sono persone cattive o stupide Sono persone da una parte che hanno una forte esigenza di Dimostrare al popolo Per la prima volta coinvolto Tutto nella guerra Che La guerra non è stata inutile Però avevano il consenso per le elezioni C'è stato un altro fatto Poi che ha condizionato il tavolo della pace Che è stata la rivoluzione russa Nel 1917 Lenin è arrivato al potere E la propaganda Già nel corso della prima guerra mondiale Si era trasformata da antitedesca A antibocelica Quindi era visto da paesi Francia Stati Uniti E Inghilterra Come un pericolo molto forte Hanno fretta Queste persone che si trovano da pace Hanno fretta di concludere Questo trattato di Versailles Che voleva costituire Una sorta di unione europea Che doveva servire sia per evitare nuovi conflitti Questo era giusto Sia però per contenere Arginare la rivoluzione bolshevica Perché si aveva il timore Che potesse contagiare Il continente europeo In più Avevano anche bisogno Di Dimostrare a Lenin Che Chi fa la guerra E la perde Poi paga pesantemente Quindi era una dimostrazione di forza Cosa fece Misero alla Germania Delle condizioni infinite Innanzitutto Disintegrarono degli imperi L'impero ostro-ungarico L'impero ottomano Vennero divisi in tantissime nazioni Noi oggi abbiamo un'idea sbagliata Quando si chiamano patria L'italia E' recente E' stata costruita Al tavolo Aversario Molte delle nazioni Oggi esistenti Che Quando le senti parlare Sembrano che siano Segue Adesso Davvero Questo ha creato dei problemi Ma Non usciamo dal discorso Impongono alla Germania Delle condizioni Insostenibili Ti faccio vedere Che sono forte Che chi perde Paga Che il mensonge Francese Ovviamente Se la Germania Avrese avuto qualche problema Con i debiti a ripagare La Francia era più potente Doveva dimostrare La popolazione Che Aveva vinto E quindi sarebbero stati risarciti Tanti danni Pensate che c'è un articolo Del trattato Non mi ricordo se è il 232 O 233 Dove si scrive Noi sappiamo Che la Germania Non ha le risorse economiche E i beni reali Sufficenti a pagare i danni Ma io ne infligiamo lo stesso Cosa succede? Che La Germania Dice come Noi ci siamo arresi Non perché E siamo persi Perché tu ci avessi detto Che sarebbero stati rispettati Questi 14 punti Ce l'avete stravorti Perché i vincitori Partecipavano Al tavolo della pace E i vinti no Quindi loro vengono a sapere cose dopo Le condizioni imposte Della Germania Erano Impossibili In realtà Non si voleva Cioè Erano state Wilson E George Inglese e americano Avevano messo in campo Dei fini avvocati Dei compilatori Che dovevano fare Degli scritti Quasi incomprensibili Perché poi non fossero realmente applicate Però dovevano spaventare Lei La Russia Con questo sistema Infatti Nei trattati successivi Le condizioni Sono assolutamente Rientrate Ed è stato possibile Per la Germania E' Contemperata Ma ormai Il danno Lo fa Quando mi riferisco A danno A che cosa mi riferisco All'interno Del trattato di Versailles Quando ci sono Questi personaggi Che stravolgono I 14 punti C'è un economista Che si chiama Keynes Che poi diventerà famosissimo In tutto il mondo Uno dei più grossi economisti Che cercherà di portare Un po' di ragionezza Dirà Ok è il consenso Ok è il pericolo russo Però stiamo creando Vogliamo creare Uno Stato Un'Europa unita E le regole Che voi state applicando A livello economico Sono un paracoperto State trasformando Questo trattato In un documento vendicativo Per motivi Personali E non O di paura Che porteranno Non c'è una sola regola economica Valida Per il paese State distruggendo tutto Non riesce a riportare La ragionevolezza Tanto si arrabbia Che lascia Lui era lì Per l'Inghilterra Lascia il tavolo della pace E in soli due mesi Scrive un libro Che si intitola Le conseguenze economiche Dalla pace Dice se verranno applicate Le regole di questo trattato Non solo L'Europa verrà distrutta Ma a breve Ci saranno Delle problematiche Enorme Come poi è stato confermato Questo Keynes Keynes Le conseguenze economiche Della pace In un'ibrenia Perché non hanno ristruttato Queste persone Che sono lì al tavolo Della pace Non ascoltano Ormai sono troppo prese Dal loro interesse Personale Questo che cosa Succede però Allora Quindi vengono Istituite per la Germania Delle condizioni Che non è in grado Di Poter onorare Viene istituita Una commissione Per le riparazioni Di guerra E viene istituita A Parigi Formata da Commissari Non tedeschi Che perché Siano ripagate I danni di guerra Avranno più potere Del Kaiser Visto che La Germania Aveva Aterito All'armistizio Ma questo Era stato Stravolto Dal trattato Di Versailles Nasce in Germania Il mito Della nazione Tradita Si dice I nostri governanti Ci hanno venduto Perché noi La guerra Non l'avevamo persa Quindi hanno Fermato Il trattato Che ha venduto La nazione E in più Hanno ceduto La nostra Sovranità Ad una commissione Sovranazionale Fatta di stranieri Cosa vi ricorda Questo Lasciamo perdere Vi ho detto Che poi I successivi trattati Hanno modificato Di quelli Di quelli che Hanno stati considerati I danni Da ripagare L'interno Psicologico Era già stato fatto Ovviamente La Germania Per ripagare I danni Con la commissione Per le riparazioni Che imponeva Delle regole economiche Ha entrato In crisi All'inizio L'ha patito Non tantissimo Perché non aveva Deve piccole banche A differenza Di quanto invece Magari può succedere oggi Però col crollo Della borsa Dalle 29 È assolutamente Crollata Anche la Germania Crisi L'idea della nazione Tradita Svenduta Agli stranieri Dove la sovranità È stata ceduta A una statua estera Questo ha permesso Che si creasse All'interno dello Stato Che venisse sfruttato All'interno dello Stato Da alcune persone Una sorta di Di psicopatia Di paranoia Che è stata sfruttata E quindi Conosciamo tutti Come poi è arrivato Al potere Hitler Hitler è arrivato Al potere Sfruttando Queste cose qua Sfruttando Questi miti Che non si è credita Questa sovranità Allo Stato estero Ovviamente Ipotizzando Un complotto Non può essere Non ci possono essere C'è una cosa Che noi Spesso Sbagliamo In questo Le persone Ripeto Anche analizzarle A livello psicologico Che era un avversario Non era una persona Stupida o cattiva Era una persona Che Uomo Quando si sono trovati lì Hanno avuto più attenzione Per loro interesse particolare Hanno messo le loro problematiche Abbiamo tutti No? Ma per chi vuole Governare Per ottenere il potere Attraverso La massa Deve fare A livello psicologico Alcune cose Innanzitutto Deve Indicarvi a un nemico È una tendenza Che abbiamo tutti Siamo in un momento Di difficoltà Abbiamo un problema Ovviamente Il leader Che dice Il tuo problema È lui E lo indica fuori da te Non solo diventa Un leader Ma anche a livello Psicologico Assonde una funzione Straordinaria Perché tutti i nostri problemi Sono risolti E poi ovviamente Deve Non considerare Tutte le altre varianti Il pericologio è lo stesso All'epoca Argo Hitler E dopo pochi anni Ci fu una seconda guerra mondiale Lui fece presa Su queste cose qua Cioè considerò questi fatti E fece presa sul fatto Che una nazione Era stata tradita Che i governanti Eravano svenduto La patria Che la sovranità Era in mano Uno straniero Che applicava Regole fiscali Che avrebbero distrutto La Germania Perché la Germania Era un po' più forte E il mondo Ne aveva paura Dopodiché Utilizzando Delle regole di propaganda Precise Che adesso Sarebbe sciocco Ma faccio alcolicenti Perché forse Qualcuno Si può ritrovare In questo periodo Il problema Ad esempio Che individuò Hitler Era il fatto Che Le risorse La Germania Era un popolo Molto forte Era un popolo Abbastanza numeroso Molto produttivo E le risorse Non erano sufficienti Per quanto Cresceva La Germania Quindi era giusto Ampliarsi E conquistare Il territorio Perché se no Non avrebbe più potuto Svilupparsi Finita la seconda guerra mondiale La Germania Era meno della metà Con Berlino divisa in due Dopo pochi anni Era ritornato il primo La prima nazione al mondo A vedere la diproduttività La base era farsa Ma questo fece presa Un'altra cosa Che usò Hitler Era Il problema della Germania È che Gli ebrei ci tolgono La volta Oggi la stessa cosa Ci sono con gli immigrati Fece presa Fece così presa Che poi Ci furono Ci furono Eggi laziali Si dimostrò poi Falsificato Ma non era importante Perché la propaganda Non deve Darvi Una notizia vera Deve darvi Qualche cosa Che possa agire Su di voi Manipolarvi Farvi credere In quell'unità Che ossia vero E basta Deve essere credibile Non deve essere vero Si sono poi Dimostrate assolutamente Falsi Ma noi abbiamo Un'intera nazione Che ci ha creduto Non possiamo però Ritenere che un'intera nazione Fosse fatta da persone O in mala fede O stupide No? Non è possibile Oggi io vedo Che ci sono poi Gli stessi meccanismi Ma sono stessi meccanismi Che sono stati utilizzati Anche negli anni successivi Versailles Aveva queste problematiche Vi ho accennato prima Poi oggi In un'ora È difficile Entrare nel dettaglio Però Non fu fatto Con un complotto All'origine Fu il risultato Di fretta E debolezza I personali Degli uomini Seduti Tant'alogo della pace Interessi personali Debolezze Paure Non fate un altro errore Noi spesso Quando Pensiamo A chi si siede A questi tavoli Non riconosciamo A loro L'umanità Che abbiamo noi Con tutte le nostre Debolezze Non conto È avere un'idea Di quello che si vuole realizzare Non conto È se si riesce a realizzare Facciamo un paragone Molto vicino a noi Tutti noi Quando siamo giovani Sogniamo di farci una famiglia Immaginiamo che ci sposeremo Avremo dei figli Tutti un urino bianco Poi quando andiamo A farla In alcuni casi Purtroppo Dopo poco Si risolve Comunque Con tre macerie Ma non abbiamo Agito in mano Fede Perché volevamo Distruggere la nostra famiglia Ci sono Quando si entra In rapporto Con altre realtà Delle dinamiche Che sfuggono All'idea Oggi sta succedendo La stessa cosa C'è Lisbona Lisbona È stata Firmata Dai governanti Evitando Le stesse sette macchine Allora inizia Nelle campagne Dicendo Il problema Dell'Italia È l'immigrato È stata presa Da lì C'era sempre Guarda È comunque Una cosa Che fa molta presa Perché? Perché è una persona Diversa Perché gli si può Attribuire a qualsiasi cosa Un'altra cosa Che sento E che mi terrorizza Personalmente E che inizia a girare Nel mondo Siamo troppi Le risorse Non sono sufficienti Siamo a 3 miliardi In più E allora? A parte il fatto Che non è supportata Io Parlavo ancora meglio E uno mi ha detto Io non trovo Dei dati Precisi E comunque Anche su quelli Ci sarebbe da discutere Perché poi Vi dimostrerò Che cosa si può fare A livello scientifico E uno mi ha detto Sì Perché c'è una persona Che ha scritto un libro Dove ha dimostrato Che soltanto Per dar da mangiare Agli animali Sì Lei ha ragione È possibile Che si consumi Tanta Terreno da coltivare Per dar da mangiare Agli animali Ma noi siamo Il primo motivo di morte Sono proprio Le problematiche Dell'alimentazione Ma perché ci siamo Strafogati di carne? Perché ci dobbiamo Strafogare di carne? Ad esempio L'importante Si parte Da una base Falsificata E a quel punto Il ragionamento Diventa molto logico E condiziona tutti Ci sono dei protocolli Che vengono utilizzati Per condizionare La popolazione Il nostro Primo Ministro Quando non era Ancora Primo Ministro Durante Un'intervista Alla Lua Alla Lewis Disse che L'Europa Per andare avanti Ha bisogno di crisi Perché soltanto Creando delle crisi E mettendo La popolazione La persona In una situazione Di difficoltà Di tensione Paura Questa potrà accettare Di cedere Delle cose sue In cambio di Un ritorno alla pace È vero Questo è un meccanismo Di guerra psicologica Il primo obiettivo Dell'operatore psicologico È la persona frustrata È un semplice motivo La frustrazione È la tensione A raggiungere Un obiettivo Necessario O desiderato La seconda Se si stia parlando Di bisogni primari Come la casa Il vestiario Oppure denaro Potere E non si raggiunge Questo è cosa Cosa creare Nella persona Crea una tensione Come una molla Aumenta sempre di più Viene schiacciata Quando L'obiettivo frustrato È arrivato A una tensione Molto alta Per l'operatore Di guerra psicologica Attraverso la propaganda Come vi dicevo prima È semplicissimo Indirizzare La frustrazione Verso un obiettivo Desiderato E farla Liberarla E quindi scatta Con una violenza Infinita Normale Noi tutti Quando siamo In una situazione Di difficoltà Cerchiamo In qualsiasi modo Di uscire Da quella situazione Il più in fretta possibile E cerchiamo In qualsiasi modo Qualcuno Che ci indichi La strada Lo sanno L'operatore E operano Perché prima Ci sia questa compressione E poi per indicare La strada E' continuamente E' continuamente E' usata Questa tecnica In Italia Ora vi porto Negli esempi pratici Per farvi Toccare con mano Quando sia devastante Innanzitutto Perché il protocollo Perché si tratta Di protocollo Ci si tratta di azioni Una dietro l'altra Si colpisce un paese Con inflazione Con delle sanzioni Non giuste E alla fine Si arriva Alla violenza Perché è importante Che la popolazione Abbia paura Nel 1958 Circa Venne stabilita Una nuova modalità Di condurre La guerra Occulta Quindi la guerra psicologica La guerra non ortodossa All'interno del nostro paese Io sto parlando Del nostro paese Poi Attenzione La psicologia Ormai è uguale Dappertutto Noi viviamo Attraverso la televisione Con format E quindi Quello che oggi Vale come arma psicologica In Italia Vale da un altro paese Una volta non era così Perché si doveva conoscere I basi culturali Vi faccio un esempio Eclatante La Campagna Per la candidatura Del presidente Obama È stata fatta Dalla un'agenzia Di marketing È costata Disvariati In milioni di dollari Ed era Un pacchetto Lo stesso pacchetto Era stato venduto E utilizzato Pochi anni prima Dal presidente La Bolivia Che compre il pacchetto Vinse le elezioni Lo slogan era E l'altro Non hanno più bisogno Di cambiare In base alla popolazione Alla cultura Alle tradizioni I meccanismi psicologici Che possono influire sulla massa Perché attraverso la televisione E i format Rispondiamo a tutti Siamo stati globalizzati Siamo stati globalizzati Nel 1900 Torno agli anni Fini degli anni 50 Vi ho detto Campi alla guerra Diventa guerra Non ortodossa E il manuale Di guerra psicologica Americano Nel Fail manual 3031 Nelle operazioni Di stabilizzazione Per i paesi Scrive Che un fattore Interno stabilizzante E alzare il livello Dello scontro Fino a giungere Il terrorismo Perché? Perché per la conquista Totale della massa La dottrina Prevede Oltre al ricorso All'azione psicologica E ricorso A forme di terrorismo Spietato e indiscriminato E ciò per esigenze Analoghe A quelle connesse All'azione psicologica Si tratta Cioè di condizionare Le folle Non solo attraverso La propaganda Ma anche agendo Sul principale Riflesso innato Presente Tanto negli animali Tanto nella psiche Come nella grande massa Cioè la paura E il terrore E l'istinto di conservazione Totale Occorre Determinare Tra le masse Un senso di impotenza Inoltre Il terrorismo Sull'arca scala Generà sempre Disagio Stanchezza E insicurezza Il terrorismo Indiscriminato Implica ovviamente La possibilità Di uccidere O far uccidere Vecchie donne e bambine Queste forme Di intimidazione Terroristica Sono oggi Non solo Più ritenute valide Ma a volte Assolutamente necessarie Per il conseguimento Dell'obiettivo Questa guerra Che cosa prevede? La guerra Ha bisogno di armi Per essere combattuta La guerra Questo tipo di guerra Trasforma l'uomo stesso In arma Sia che l'interessato Ne abbia conoscenza O meno Nel secondo caso L'uomo arma Diviene paresemente Un robot Ma anche Nel primo Finisce spesso Per diventarlo Perché Se conserva La coscienza Del proprio stato Rinuncia Tuttavia A una volontà propria E quindi Rinuncia A essere libero Il protocollo Di guerra psicologica Dopo aver Provocato La crisi Deve provocare La paura Deve provocare La paura Attraverso La violenza Il terrorismo Il violazione Di diritti umani E Questa guerra Deve essere combattuta Con delle armi Che sono le persone Le persone Vengono Caricate Da leader Psicopatici Perché quando si scatena L'aggressività Della massa È una regola Psicologica Vengono selezionati Leader psicopatici Che sono funzionali Del progetto E che Avranno La funzione Di indicare Una massa Spaventata Stanca In crisi Un obiettivo Contro cui andare Immigrazione Abbiamo svenduto È un potere Infinito Il pericolo Oggi È questo Quanto è successo Dopo Versailles Che aveva creato Una situazione Analoga A quella di oggi Sta Per ricorgersi Se si conosce Conoscono i meccanismi E si conosce La storia passata Si vede Chi conosce La guerra psicologica Chi conosce I termini Della propaganda Abbiamo detto Abbiamo detto Dio ovviamente Per farvi toccare Con mano Quanto sia potente Quest'arma Oltre a avervi Indicato come Vengano scelte Per combatterla Le persone In passato In passato In Italia È stato fatto Ed è stato fatto In maniera Atroce Ed è stato fatto Colpendo Un'intera generazione Infatti Nella preparazione Di questa guerra C'è scritto Innanzitutto Si sceglie un gruppo Che può essere Un politico Culturale Religioso Etnico Di classe Oppure Un intero gruppo Di giovani Un'intera generazione Negli anni 60 Venne scelto Come gruppo Un'intera generazione Ci sono dei protocolli Ero stati desegretati In cui Si scelse Di utilizzare Come arma Per stabilizzare Il nostro paese I giovani Ad ottenere Gli scopi prefissi Occorre servirsi Con la dovuta Accortezza Di metodi scientifici Come la propaganda E la psicologia sociale La propaganda Non deve basarsi Sul ragionamento Ma deve colpire Attraverso elementi Irrazionali inconsci Da qui La necessità Di preferire Al ragionamento Lo slogan Il simbolo E qualcosa Che evoca I concetti Ed esigenze Le mentale Sostengono I maggiori Teorici Di propaganda E di psicologia sociale Che non basta Affatto Presentare tesi positive No? Ma è necessario Dare in pasto Alle masse Dei fetici Da abbattere L'avversario Va identificato E segnato Adito Se poi Non ha un volto Ben preciso Tale volto Gli va Senz'altro Attribuito Che sia Naturalmente Brutto Stupido Ridicolo Moscuoso E la gente Dove imparare Vediamo Queste sono Le tecniche Che a livello Generale Già Mi aiutano Cioè Se io Trovo Un libro Che mi dice Il problema È lui Il nemico È lui Torturarlo È legittimo Ci porta Via il lavoro Oppure Io inizio Già Per Terrore Molti di voi Avranno Guardate C'è un libro Del presidente Della repubblica Possiga Che dice Una delle armi Sotto elezioni Viene spesso utilizzata Perché Dà immediati Risultati È quello Di Ovviamente Pintare sulla finalità Ma io Sei extracomunitaria Perché L'uomo nero Cattivo Brutto Che entra di notte Mentre noi Siamo in casa Ci stupra la moglie La figlia Ci ruba Fa sempre paura Dice Ma notate Cosa trasmettono I telegiornali Durante la campagna elettorale Io sono ridato È un Un trionfo Dillo Extracomunitaria Che stupra Lo rubano Lo uccidono Siete che Il 90% Di che stupra Vi avviene Per male italiano Diciamo male Però Quando uno capisce Che questo è il meccanismo E vede che i mezzi televisivi Che sono il primo mezzo Di propaganda Trasmettono questo tipo Di notizie Deve già capire Che è sotto attacco Dicevamo Che a un certo punto I giovani Negli anni 60 Vengono scelti Come Uomo arma Cioè si decide Che per stabilizzare L'Italia Bisognava coinvolgere In degli scontri I giovani Giornali I movimenti Di estrema destra Di estrema sinistra I cui I più accesi Dopo Si è scoperto Avevano all'interno O all'acqua Cioè uomini Dei servizi segreti Iniziano a muoversi Contemporaneamente Fomentando Paura Orrore Odio Urgenza Dell'azione Sulla Urgenza Dell'azione La fretta Attenzione Alla fretta Che è fondamentale In una guerra Facendo credere I giovani Che l'obiettivo Obiettivo principale Della loro strategia Ovviamente Che solo con la violenza Si poteva strappare La maschera Di cofresia Amico Che bisognava agire Se no questo Piano piano sotto sotto Ce l'avrebbe fregato tutti E che solo nella lotta La vita era degna Di essere vissuta Se voi andate a prendere I giornali dell'epoca Immaginate la violenza E la forza Su dei giovani I 16, 17, 18 anni Devi salvare il tuo paese L'attacco è qui Che sia fascista Che sia comunista Devi combattere Il futuro Ci sono dei meccanismi Si si va a prendere Questi giornali Che io ho ripreso Per un libro Che sto scrivendo Che sono Per venire grigli Tant'è vero Che molti giovani Che cosa fanno Cadono nella trappola E quando si va a sentire Le loro testimonianze Dopo Viene da piangere Vedete Ad esempio C'è un ragazzo Che dice Pensavamo che stare Con gli adulti Che facevano questi progetti Siamo negli anni 60 70 No? Si Eravamo adulti Anche noi Insomma Ci si dava importanza A tutto ciò Contribuiva il fatto Anche solo di vedere Toccare armi vere Stare in mezzo a gente Che sapeva usarle Aveva esperienze In materia di guerra Credevo inoltre Che non esistesse Uno stato di libertà E che bisognasse guadagnarselo Ribellandosi All'ordine costituita Eh sì Perché in quel periodo Gli agenti Dei servizi segreti Iniziano a sviluppare Delle tecniche A destra e a sinistra Saranno poi Dello stesso servizio segreto Si fingeranno Di destra e di sinistra Dove si dice Lo stato è in pericolo Abbiamo bisogno Di te Per salvarlo Per il tuo futuro E il tuo domani E li coinvolgono Magari questi Sono personaggi Che in passato Avevano avuto Una gloria Non so O gli eseri O altri E gli dicono Guarda ti faccio vedere Le armi Racconti di guerra Poi per essere Per condizionare Entrare ancora di più Dentro i giovani Che cosa fanno? Iniziano con le Commemorazioni Le liturgie Che hanno una forza Evocativa Nei giovani Incredibili Perché Utilizzando Del meccanismo Psicologico Avrebbero avuto Ancora più effetto Queste operazioni Di guerra psicologica Fanno Si che Poi alcuni studiosi L'hanno rilevato Come Hanno la stessa funzione Che Ebbero in passato Nella Repubblica Di Weimar Cioè Quella funzione Di attribuzioni Di senso alla villa Che un tempo Avevano avuto Le notti di religione Ora io Ci sono alcune persone Che forse se lo ricordano Io Ero giovane Ho appena nato Sono nata nel 69 Tutte quelle Devante avanti All'altare I fiori Tutti in indivisa Tutte queste commemorazioni Queste celebrazioni Nei giovani Avevano Veramente Erano ipnotiche Fate apposta Tant'è vero Che all'epoca Molti hanno notato Come i giovani Si schierassero Da destra o sinistra Quasi per caso A seconda dell'amico Che si avvicinava prima Quello che avvicinava prima La loro principale azione Fu nelle scuole Dei licei Quando E le scuole Di scagliarono Nelle manifestazioni Di piazza Sempre perso Le lezioni Qualsissima manifestazione Si trasformava In una scatozzata Scazzottata Ma i giovani All'epoca La vedono un po' Oggi usciamo Andiamo a vedere Se troviamo qualche fascista O qualche comunista Lo legniamo Finita la giornata E visto quanti Gli ne hai date Insomma era abbastanza Ancora No? Quando però poi scoppia La bomba Di piazza Fontana Del 69 Tanti non se lo aspettano Tanti non ci credono Non avevano mica capito Questa cosa qua C'è la testimonianza C'è la testimonianza Di un ragazzo Che dice Io sto lì A piangere nel freddo E nel grigio Di piazza Fontana E penso Scusate ma è così Cazzo Adesso ci faranno Un culo così Io sono ancora Al liceo E questi Bastardi Già stanno trasformando La festa intergete Un altro che dice Poi a un certo punto Eravamo così spaventati Che cercavano di capire Cosa pensavano anche L'altra fazione C'erano quelli di sinistra E quelli di destra E andarono Davanti all'università E uno dice Dice Noi andammo Con un giovane di destra Andammo davanti all'università E quelli del movimento Studentesco Presente all'università Gridarono verso noi Travamo degli assassini L'incontro finì male A botte Da quel momento I rossi accusarono I neri della strage E così fecero i neri Nei confronti dei rossi Eravamo caduti Nella trappola Vero Perché di trappola Che si tratta Infatti Il protocollo Di guerra psicologica Americano Il manuale Dice che il fattore Stabilizzante Per un paese E' lo scontro E' il terrorismo Si passa a livello successivo Con la strage I ragazzi non se lo aspettano Verrà poi In realtà Negli ultimi anni Viene stabilito Che quella fu una strage di Stato Organizzata Da elementi Della CIA E della CIA Una accusava l'altro Molti di loro Scesero E accettarono Il terrorismo Perché dissero Loro sono stati primi A livello psicologico Era questo che voleva Si formare Le gruppi armati Adesso non voglio Farvi la storia Completa La cosa più Atroce Di quel protocollo Dove non c'è stato Dove non c'è stato niente Di contatto I giovani sono stati usati Come arma Un consapevole spesso E' stato che a un certo punto Molti giovani Si sono ribellati Perché hanno capito Che erano stati traditi Molti altri giovani Invece pur avendo Un impegno politico Avevano deciso Di non accettare lo scontro E manifestavano Per i propri diritti Sacrosanti Con la pace Allora partì un altro protocollo Perché era pericoloso Protocollo Blue Moon La CIA Prendendo spunto Da Edgar Cover Per 40 anni Capo dell'FBI Convinto che il consumo Di stupefacenti Fosse un ottimo sistema Per controllare i giovani Apprestò in Italia L'operazione Di un'unità Blue Moon Consistente nella diffusione Di sostanze stupefacenti Negli ambienti giovanili Al fine di provocarmi La destabilizzazione E ridurne L'impegno politico Una concomitante Campagna stampa Ritrasse i giovani In maniera tale Che le rivendicazioni legittime Si trasformarono A livello di comunicazione Come un'imposizione frenetica Di godimenti Di droghe e corti Ma era un protocollo? Era un protocollo Addirittura arrivarono al punto Che una volta Deciso di attaccare Un'intera generazione Con le droghe La determinazione Del governo statunitense All'uso dell'SID Lo scopo di depotenziare L'impegno politraspare Dal documento Cire Del 4 dicembre 70 Il quale A fronte Dell'impressionante Estensione Della protesta giovanile Per la guerra in Piet Suggerivano Nuovi metodi Di contenimento Della violenza Nel contempo I giornalisti Vicini agli ambienti Dei servizi Diffondevano Diffondevano Nella società americana La convinzione Che il dissenso giovanile Alla contrarietà Alla guerra Nascesse Da giovanimenti Alterate Dall'SD A tale scopo Fu diffusa La notizia Che la sostanza Induceva danni cromosomici Al fine di creare Il supporto scientifico All'affermazione Che il dissenso politico Proveniva Da una devianza genetica Potrei andare avanti Con i protocolli Di quel periodo Potrei andare avanti Con la propaganda Fatta da questi movimenti Di servizi segreti Potrei dirvi Che nel 1969 Si diceva Che lo Stato Era distrutto Perché le nostre città Erano invivibili E perché addirittura Ce n'era uno Del 69 Mi ha fatto ridere Solo a leggerla Diceva E poi Tra le varie cose Questo traffico Che ci ossessiona tutti Siamo nel 69 A Roma Ci hanno creduto Voi ridete Ma ci hanno creduto Ci fu In un primo scontro Di piazza Nel novembre del 69 Morì Un poliziotto Questo poliziotto In realtà Morì Perché si scontrarono Due camionette Lui aveva la testa fuori Batte la testa Contro un palo Una televisione francese Riprese L'avvenimento E venne fatta sparire Ovviamente La campagna Inizia a dire Che i giovani Stavano Benissimo Ai funerali Si presentarono Tutti i giovani Era il primo morto All'interno Di uno scontro Di piazza Fascisti Comunisti Rossi Neri Chiamateli come Colete Insomma E al passaggio Della vara Un giovane Questo risulta Dalle relazioni Del ministero Degli interni Prese il mazzoletto Rosso Per l'arcollo E lo gettò Della vara Rischiò Un linciaggio C'era Un esponente Della sinistra Che venne salvato Da un linciaggio Giù Dopo Un uomo Dei servizi segreti Che avevano Un quotidiano Scrisse Che i comunisti Avevano sparato Sarò sparato Scusate Avete Avevano Spitato Il passaggio Della vara Della vara Dell'inforzione Allora Il nemico Va indicato Addito Va additato Va Res brutto Reso Disumanizzato In qualsiasi modo Questo Avere una forte presa E' ovvio Che sono false Queste cose Ma lo scopo È quello Di Indicarti Il nemico E insegnarti Ad odiarlo E attribuirgli Delle cose Vergognose Sempre questa persona Tempo prima Scrisse un articolo Dove Addirittura Dei lavoranti Della Fiat Delle donne Erano state sequestrate Era stato loro Anche qui Sputato sul pub Perché devi dimostrare Che l'altro È un mostro Non è umano Ma guardate Quello stanno facendo Che oggi Lo stanno facendo Se voi Guardate attentamente La televisione Quello che vi viene mostrato Sono Delle persone Che non hanno umanità Una delle operazioni Più spiacevoli Lo utilizzo Perché è spreggevole Perché è stato fatto Nell'ultimi tempi È stato Quella false flag Del falso attentato Di Natale Di quel ragazzo Del Senegal Mi sembra Che No Era un ragazzo Di colore Che prese un aero Da Amsterdam Andava negli Stati Uniti E Sventarono L'attentato Perché lui Aveva La bomba Negli slip Non so se l'ho ricordato In realtà Le notizie Che non sono state date Sono state quelle Che il ragazzo È arrivato All'aeroporto Mal vestito E senza documenti Già un attentatore Che arriva mal vestito Senza forse Si fa notare È stato accompagnato Al check-in Degli uomini Molto ben vestiti Che ha detto Imbarcate loro lo stesso Noi facciamo Possiamo fare questo E facciamo sempre così Non è Non era Non era un impazio Andava dall'Olanda E gli Stati Uniti E faceva parte Di uno dei paesi canali L'hanno imbaccato Sull'aereo C'era una persona Che ha ripreso Tutto il volo Dal primo minuto Se qualcuno di voi Ha fatto Un volo transatlantico Una delle cose più noiose Si possono Riprendere La persona Che aveva L'esplosivo Nelle mutande E la polvere Da sparo In una Contenitore Nell'ano L'ano Non ha pensato Di alzarsi Andare in bagno E costruire la bomba In bagno No Tranquillamente Al posto Che se faccio così In pieno due posti Da mio vicino Pensato bene Di slasciarsi I pantaloni Togliersi Tutti Inizierà A armeggiare E c'è stato Un cittadino Eroe Che era Saltato addosso E l'attentato E' stato sventato Che casualmente Era anche un regista Di ombo Per fortuna Non è credibile Ma quello che si tenta Di fare Di disumanizzare No? Quale Librezza Una persona Che cerca Di far saltare Un aereo Con l'esplosivo Nelle mutande E la polvere Da sparo Delle crone Pensate bene Guardate Gli sono tutti L'infinismo psicologico Tutti Per farvi aver paura Per terrorizzarvi Per indicarvi Un nemico Qualcuno da odiare Indicare a dito E deve essere brutto Soprattutto deve essere La risposta Alle vostre paure E la risposta Alle vostre attenzioni Per il momento Adesso è pericolosissimo E veramente Le persone Che stanno agendo In questo momento Stanno facendo Degli errori infiniti Facciamo un esempio Molto pratico A livello economico Possiamo entrare Nel dettaglio Qualche tempo fa C'è stato Il problema Della Grecia A un certo punto Per il fondo Salva Stati Si sono messi D'accordo Cercando di fare Un accordo bilaterale La Merkel E Sarkozy Gli altri stati Dell'Europa Ha detto Scusate Ma se siamo Una comunità europea Perché fate un accordo bilaterale Dovremmo essere d'accordo Tutti A rigore di logica E loro hanno detto No Va bene così Perché noi siamo Agli stati più forti La mossa È stata fatta Semplicemente Perché a livello psicologico A breve Entrambi Hanno di nuovo Le elezioni Per quanto un popolo Possa Essere in crisi Quando gli dici Che comunque Nell'Europa È migliore Ma il problema È del danno psicologico Inferno Per gli altri Perché io Ho sentito Delle reazioni In infinità Sono migliore La Francia È meglio Dell'italiano È iniziato Delle cose Nella mente Come meccanismi I pregiudizi Che sono ritornati Fuori infiniti Alla televisione Le trasmissioni Tutto quello che si vuole C'era il problema Se concedere il prestito Non la Grecia La Merkel Vado in Grecia Non vado in Grecia Ritorno La Grecia Ha un debito pubblico Di 340 miliardi Di euro Te lo do Non te lo do Forse te lo do Però ci ripenso Ma forse non è così Eh In questa In questa manfrina Ha fatto oscillare Così tanto Le borse Che hanno perso 2400 miliardi Di euro Su 340 miliardi Di debiti È ovvio Che sono delle manovre Diverse Io non credo Personalmente Che siano delle manovre Fatte Con un calcolo preciso Io credo Che ci siano Delle debolezze Degli interessi personali Della scarsa capacità Di vedere oltre Ma a noi Non interessa A noi interessa Oggi sapere Che Nel 1918 Sono stati commessi Degli errori Degli errori Che sono Che hanno portato A una risposta E a individuare Un problema Che è esattamente Come quello di oggi La nazione È stata tradita I nostri governanti L'hanno svenduta E la sovranivestria È stata ceduta A uno stato estero E noi siamo in crisi Perché Abbiamo un debito E Delle risorse Delle situazioni economiche Che non possiamo Gestire Per di più Demandate ad altre Fuori dal nostro stato Identica Allora nacque Hitler E sorse il nazismo E ci fu una seconda guerra mondiale I meccanismi Che ha utilizzato Per arrivare al potere Hitler Sono le meccanismi Che avevano utilizzati oggi Allora Quello che noi Non dobbiamo fare Non dobbiamo cadere Di nuovo All'errore Dobbiamo Aver chiaro Che le persone Che Ti indica Una soluzione facile Che ti dice Devi agire con la violenza Perché devi scendere in piazza Scendete Scendete Pensate di essere Più abili Di queste persone Avere una struttura Un'organizzazione Più abili Di queste persone Lo sapete cosa significa La proporzione Vi faccio un esempio Se viene una manifestazione pacifica Passa a un provocatore Intanto Gli agenti provocatori L'hanno sentiti No? L'ho conosciuto E mettendo Molesto a tua figlia Mettere le mani addosso A tua moglie Lo sapete Lo regisci E' un attimo Creare una scazzottata Con la proporzione E' un attimo No a questo No A chi vi indica Un nemico No a chi vi dice Che siamo troppi No a chi vi dice Che il problema Sono gli immigrati No a tutte queste cose Non è questo Il problema Soprattutto non è questa La soluzione Da quando C'è in atto La guerra psicologica Uno dei più grossi Psicologi Grandi psicologi Mondiali Ha scritto una cosa Molto giusta Ha detto Se voi ci avete fatto caso Tutte le rivoluzioni Che ci sono state Sino ad oggi Nel mondo Stiamo parlando in Italia Si sono concluse Tutte Al di là del sangue Al di là delle Delle forze in campo Al di là Se c'era una democrazia O se Con La vittoria dei ritori Che sono gli unici Che hanno sempre Il popolo Che i propri diritti Non ha mai vinto Noi da quando abbiamo iniziato Questo racconto Ad oggi Abbiamo perso Ma voi lo sapevate Che prima Della prima guerra mondiale In Europa si girava Senza passapotto Lo sapevate Che c'era uno scambio Di merci Per cui una mattina Potevo decidere Di fare la colazione Con i prodotti Freschi dell'India Portati a casa Lo sapevate Che io potevo Nel giro di tre ore Investire I miei soldi Dall'altra parte Del mondo Nel fine 1800 Che le persone Che vivevano In questi imperi Multinazionali Non solo potevano Girare liberamente Ma parlavano Correttamente E scrivevano Correttamente Cinque lingue Certo Non tutti Avevano La scolarizzazione Ma voi Vi ritenete Che La scolarizzazione Aiuti a capire Di più A rendere più intelligente La persona Questa è una Delle falsificazioni Più grosse Pensate che Le Bon Che scrisse Un libro bellissimo La psicologia delle masse E quella Deliberamente Scaricabile Da internet Facilissimo Scrisse già Nel 1870 Delle Ford Sì Scrisse Nel 1870 Una delle cose Più Difficili Da scardinare Delle falsificazioni Che riguardano La democrazia Che dice Non è mai esistita E che Concedere Una Educazione A tutti Rende tutti Intelligenti E spiegava Perché in realtà Questo non è così L'intelligenza La capacità Di capire Non ha niente A che vedere Con lo studiale Della normale memoria Ma al di là di questo Questo non voglio dire Che la cultura Sia un male Non sto dicendo questo Quello che voglio dire Ma abbiamo perso Infinitamente Tant'è vero Che L'unica Rivoluzione Culturale Che è stata Portata avanti Dice questo Sono riuscito a trovare Pezzi Questo psicologo Che la rivoluzione Non direi dei ricchi L'ultima Che nell'ultima generazione Si è avvenuta e rimasta Ha inevito il pensiero Critico E all'era borghese Si è sostituita Quella dell'ipercapitalismo Consumista Consumista E questo che è successo Ci sono stati dei giovani A cui è stato fatto credere Di combattere Per il futuro Per la libertà Per i propri diritti Sono stati trasformati Sono stati trasformati Noi in arma Sono uccisi L'un con l'altro Con degli strasci Che abbiamo ancora oggi Perché al primo litigio Fascista Comunista Però oggi Non si capisce bene Perché? Perché in realtà E non hanno ottenuto nulla Perché avevano il compito Di scatenare la violenza Per stabilizzare Perché non cambiasse nulla Oggi siamo in una situazione Di allarme russo Allora Quello che io Su cui vi chiedo di riflettere Su cui vi chiedo di fare attenzione Di non cadere In questa trappola È facile non caderci È facile con quegli strumenti Che vi ho detto prima Quando trovate qualcuno Che vi indica sicuramente Un nemico Quando trovate una persona Che vi indica sicuramente Un'azione da fare immediatamente Fretta eh Perché non c'è tempo La fretta È uno degli strumenti Più importanti Che usano Quando trovate una persona Che le conversazioni insinua C'è un esempio Ah Una conversazione Si troverà molto spesso Dire Ah io Non mi permetterei mai Neanche di pensare Che tu abbia fatto Che quella persona Non abbia fatto Però si potrebbe Non Terrà già insinuare Rileggete Potello Diablo È un manuale perfetto Che possiamo applicare Anche Di giorno È Il meccanismo Di insinuazione Di ripetizione Perfetto Che viene applicato Quando voi vedete Un leader Innanzitutto Innanzitutto Chiariamo subito Un punto La persona Una delle cose Più importanti Per queste persone È creare un'identità Attraverso Un simbolo Noi persone Ci sentiamo forti Se possiamo raggruppare Sotto un simbolo Una bandiera La patria Ecco questo no Oggi Il vero atto L'eroismo Se vogliamo È costruirsi Al di fuori Di tutto Al di fuori Di una bandiera Al di fuori Del logo Di un partito Di un simbolo Voi siete persone Che non avete bisogno Di questo Detto questo Tutte le volte Che voi trovate qualcuno Che dice Per sollevare l'Italia E vi indica E vi indica brutto O vi insinua O vi mette il dubbio O vi dice Non c'è neanche bisogno Di spiegarle Queste cose Sono pallesi No? Spiegati Che lavora con slogan O frasi fatte Con cose facili Da ricordare Vietato vietare Lo ricordate Negli anni Della contesta Tutti i giovani Vietato vietare Per il nome della democrazia Ma voi avete idea A livello giuridico A livello economico A livello sociale A livello psicologico Quanti volumi Si dovrebbero scrivere Quanti mesi Si dovrebbe ragionare Per spiegare Cos'è la democrazia E se sia mai esistita Però ci sono Delle parole Che hanno Potere magico Risolvono tutto Perché sono parole generiche Che voi riempite Come volete Democrazia Libertà Giustizia Eguaglianza E' facile E tutti ci ritroviamo Quando vedete Queste cose qua Se si ascolta Il mio consiglio Girate la larga Perché è vero Non fatelo Si sta ricreando La stessa situazione Dopo il trattato Di Versailles Se rivedete Le stesse dinamiche Uscitele Denunciatele E avvertite Che vi sta accanto Che il protocollo È sempre lo stesso Il meccanismo psicologico È sempre lo stesso E la violenza A cui vogliono portare Buona parte Della popolazione Non è la via Ci sono le domande Applausi Grazie Grazie Però Sono le domande Le domande Ho chiesto Ci sono le domande E nessuna domanda Beh sicuramente Paolo Rondo No Lui non ha domande In dibattito In dibattito Se non hanno domande Non si fa Non si fa Non si fa Un cultore Di meccanismi intelligence E un rilettore Del doppio livello Del potere Del controllo Che ovviamente Travalica anche L'aspetto statuale E ha a che fare Con un po' Cioè Che sopravvanza Le forze Anche Intelligenz Militari Di servizi Di servizi C'è qualcosa Altra addirittura Oltre Ma noi lo conosciamo Perché Abbiamo i piedi per terra Con la storia Ma Di quello che ho detto io Io mi metterò Innanzitutto Lo schema Lo laglierò A voi Cioè Ho fatto un'analisi Che partendo Dall'aspetto Tutti supposti Ha visto Qual è la strategia Di ghettizzazione Frammentazione E eliminazione Anche Della Informazione Quali goli Sono stati disegnati In che modo Come è stato infiltrato Il mondo Di quali fanno pure La corretta informazione Apparente Ma prima di dirlo Devo dirvi un'altra cosa Dello schema Di Solange Che non è uno schema È una Dissettazione punta E informata Di come si sono svolte I fenomeni Come stati Anche etero diretti Io condivido Tutto Perché non ci si limiti Alla eterogenesi Dei figli E cioè Al direzionare Controllare Allo schema Azione Problema Reazione Ma si parli anche Le forze Dovre Perché la storia Perché la storia Che per l'appunto Non è completamente Governabile È fatta Di variabili Contina E il 66 67 E poi 68 Non è stato fatto Di un movimento Di massa Giovanile Costruito A tavolire E cioè In quegli anni La crisi del modello Di sviluppo La crisi del rapporto Tra Cultura e sbocchi Lavorativi La crisi Che poi si è ripresentata Una crisi Non strutturale Ma La crisi Quella risa Insomma E concorsero Insieme A movimentare Masse Folle Che non agivano In base a un progetto Ma Erano La risposta Collettiva Indogera Che si verificava In una frattura Del modello Di sviluppo Non avrebbero Inventato Il progetto Che io chiamo Caos Che poi è la stessa cosa Ma quello lì Direttamente In missione Cia Imbottendo Di LSD Sperimentavano Il progetto Precarpa Ultra Milioni di giovani Se non avessero Auto il problema Di governare Un movimento Collettivo Puro La cui forza ideale La cui forza sociale Determinata Da una crisi Da una frattura Dello sviluppo Del sistema Poteva mettere In crisi Realmente Degli assenti E realmente Per una prospettiva Stratulica Quindi innanzitutto Esiste una forza pura Una forza pura Una forza pura Ed uno schema Interpretativo Anche di questa Che ovviamente Che impingue Legge L'aspetto L'intelligence E mette in secondo piano Però certo Se si parla Di azione Problemare Il problema Era creato Ma a monte C'è certamente Una spinta Endogena Pura E qui Faccio la chiusa Qualcuno disse Noi abbiamo Il sogno Guiev Io l'ho trotto In Guiev Esiste Un sistema Di comunicazione Semplificato Pura Legato all'utopia Legato ai valori Normalmente È molto difficile Dicare L'utilizzo Con un coraggio Ma non è solo Il linguaggio Del potere Esiste C'è un sistema Utopico Di valori Di spinte Che Va governato Va etrodiretto Va assorbito L'altro schema Oltre a quello Delle eterogenee Si definì La rivoluzione Passiva C'è una spinta Di massa In parte Di botti Scono di droghe In parte In dubbo Le false Teorie In genere Le false Semplificazioni Fassi In stradette In parte In dubbo Meccanismi Violenti Che il governo In parte Il suo terrorismo Ma certo Signor Rittelli Non volevano La democrazia In frattemica E le democrazia Si chiamavano Non volevano I collettivi Degli operai Che parlavano Di salute E rifiutavano Di avvalenarsi Con I violenti Costituiti Dalle vernici Utilizzavano Per coprire Le Fiat 600 E le Fiat 1 Non so Le cappero Se vuole A quale Ma ancora Non ce l'ha Volevano Appena E cioè La storia È sempre Più complessa Anche Del meccanismo Di eterogenesi Della direzione E però Se questo Hanno fatto E se io Difendo anche Le forze Indogene Proiettive Della storia E non leggo Tutto Con lo stesso Schematore Come grande progetto Grande governo E grande deviazione A morte Ma è anche vero Che fanno creati Grossi movimenti Insolvenzioni popolari Pagate Insufflata dal basso E anzi Questa tecnica Si è sempre più evoluta Loro si sono anche Impegnati A inquinare Persino Questo tipo Di conoscenze E come l'hanno fatto L'hanno fatto Studiando Il tavolino Come il contropotere Informativo Il controsapere Potesse essere Ridotto Eliminato Annichilito E per farlo Niente Pogò Di meno che Hanno gestito La presenza Di intelligenze Forchi E vere Prove non sapere Conto Informativo In questo mio viaggio In questo mondo Io ho trovato Che quasi tutti I soggetti Più attivi Guardate bene Per quello che vi dico Sono soggetti Inquinati E inquinati L'inquinamento Riposa Nell'essere Loro stessi portatori Di quello Meccanismo Controinformativo E contemporaneamente Nel deviare Il meccanismo Controinformativo Introducendo Elementi esposti Faccio un esempio Ci stanno Ci stanno alcuni soggetti Del mondo Cosiddetto Complutista Che non rispetto Nella parola Nella dichetta Che hanno avuto Un grosso ruolo Apparentemente militante Parlano d'amore Parlano di verità Poi parlano di astrale Poi cominciano a parlare Controinformativo Alcuni di questi personaggi Sono inquinati A morte Appartengono all'altra area Io ho trovato addirittura Due tizi Una coppia parente Che testimoniavano Una denuncia gravissima Sui fatti di pedofilia Dall'un figlio dell'una Dall'altra Ho fatto una trappola A loro Che lo racconto Ascoltate Sono riusciti A intercettare In una discussione In tre ore Di notte Alle 23 Alla fine Di quella discussione In tre ore Ve lo giuro E ve lo posso dimostrare Con gli allegati Sbitti successivi Essi erano Dei servizi Un americano Comunque collegato Ai servizi nazionali L'altra Ancora più pericolosa E collegata A un pezzo Del Medio Oriente Che potete immaginare Che sta trovando La palestina Leggetto Ma L'hanno addirittura Dichiarato Anzi Il soggetto Mi ha chiesto Come hai fatto a capire E gli ho 7-8 punti Del suo Dissertare In cui Nasceva la certezza Che non poteva essere In questo tipo di soggetto Perché in questo arcane Non perché Paolo Ferraro Sono più conti Più intelligenti Più capaci Di assoluto Allora Non perché Paolo Ferraro E Max Sono il genio Che si vede Ma perché In realtà La maggior parte Di questi protocolli Comportamentali Di queste tecniche Hanno un obiettivo Distrarre Mi sta ascoltando L'euro Quindi Mi chiede Allora Hanno un obiettivo L'80 Il 90 Il 99 Per cento Dei soggetti E c'era E c'era Lo conto Lo conto Sulla pochezza Anche collettiva Anche nel mondo La conto informazione Un'altra delle tecniche Studiate a tavolino Che riguarda Questo mondo Di noi E ci andiamo Di far capire E stimolare La coscienza Ma anche In fare I congetti E' quella Di dare Un compito Cultural Diffusivo A alcuni soggetti Che sia Come caratteristica Astratto Delimitato Come circuito Informativo Ghettizzato Negli strumenti Di trasmissione Delle conoscenze Persino Internet Persino Facebook Persino Le cerchie di netto Sono studiate A tavolino Affinché I circuiti Informativi Siano corti Se voi studiate I meccanismi Delle licenze Faccio un esempio Troverete che Essi sono Non Cerchi che si allargano Ma cerchi che si chiudono E quindi Persino Lo strumento Il portatore Di un meccanismo Universale Di informazione Viene strutturato Si tende a strutturarlo Come strumento In cui l'informazione Gira su se stessa Io chiamo Quelli personaggi Rani e pescatrice Finti soggetti Che hanno Doppia funzione Se lo rivo In un mondo chiuso Non è conoscenza Collettiva Se dico una cosa Più trepedita Sembro uno Che informa Veramente E alla fine Ottengo il risultato Di creare Un circuito Rinchiuso Di persone Che si raccontano Le cose Vere Oltre In una forma Mistificata Dando un ruolo O un'immagine O un'idea Soggetti Che non la hanno Non la possono Questa cosa accade Anche Sul piano strategico Culturale Sotto il profilo Che io chiamo Informativo E formato Solange ha detto Cose molto importanti A questo riguardo Ma tenete presente Che nel 67 E il 68 Nel 66 Non si parlava Di informazione Di massa O scuola di massa Si parlava Prima di scuola Di plappiano Con la compilazione Di massa Ma poi si diceva Non all'emozionismo Sì alla cultura I collettivi Si prendevano In mano Si faceva La storia Prodizzo dei professori Che avevano in grado La gente Di formarsi E formarsi E si dà Il sapere Che era trasversale Costruito Con la capacità critica Che era il vero obiettivo Il 68 Non è stato Solo questo Ma è stato Esattamente Ciò che temerano Salto rapidamente Perché è invitato La massa A chiudere E vede In questo momento In cui si apprestano A riprodurre I protocolli Che gestiscono Anche Nel mondo Nostro Un'altra Strategia Distruttiva La frammentazione Ognuno portatore Di un meccanismo Di verità E ognuno portatore Di un aspetto Potenziato Ciascuno Della sua pittura Frammento Loro Sperano E si aprono Che non nasca Un meccanismo Di omogenizzazione Di capacità Di lettura Globale E sperano E si aprono Persino Scusami se ti disculpo Solano Si aprono Persino Che il tramandare Gli strumenti Di controllo Di formare A un'attuale Di questi strumenti Si traduca In un meccanismo Che è il senso Di impotenza E cioè Tutto ciò Che viene detto A altre Costituzioni Di radici Tutto ciò Che viene fatto È potenzialmente Invinabile Anche il non fare Può esserlo Quindi Può non fare nulla E assolutamente Fare tutto sbagliato Questo messaggio Che è un metamessaggio Gestito Dall'esterno È il più Pericoloso In assoluto Perché il messaggio Della Depressione Il messaggio Dell'incapacità Di essere soggetti Storici È il messaggio Con il quale Io combattio Abbiamo due ricette Deframmentiamo Le esperienze Un vegano Un economista Che crede alla crisi Del sistema economico Capitalistico E non parla solo Del dio Moneta Come feticcio Alternativo Che salva La patria Un soggetto Che sa Che cosa sia Il diritto Alla salute Come l'hanno Governato Il distrutto Sono essenzialmente La stessa cosa E quindi Accelerare oggi Una strategia Che non è di convenza Vuol dire Superare immediatamente I gritti Creare un sistema Culturale informativo Gestire un'ipotesi Che rompe La comunicazione E dare a tutti quanti Il quadro globale Mi dispiace Ma sembrerò bastone Ma l'ultima Grande operazione Culturale Quella in ciclo Pedrica Che fu data Nel secolo De Lumi Aveva un'intuizione Che supera anche La storia Solo l'analisi Globale del tutto E solo la capacità Di arrivare A provare Non tramandando Solo cultura Ma esperienze concrete Ci salverà Quella frattura Di cui va Tra lei E qui chiudo Sta per accadere La paura Di massa Il crollo Delle certezze di massa Sta per essere gestito Ma noi abbiamo Una chance Abbiamo questi Saperi Abbiamo questa Prospettiva Storica Se noi ci intercettiamo Con il movimento Come una grande armata Capace di fare Di conto Informazione pura Avendo trovato I metodi esalti Noi possiamo addirittura Arrivare Ad ammbrire Ad utilizzare Quegli strumenti Come se fossero Nostri E quindi anche E questo ve lo dico Democrazia Parola ronda In mano a chi ci crede A chi la difende A chi la realizza Chi informa realmente È ancora un grande potere E quindi noi abbiamo Ancora grandi possibilità Perché individuiamo I metodi Rompiamo E frammentiamo E certamente Analizziamo Tutto quello Che hanno fatto E tutto quello Che fanno Anche in questo mondo Essendo coscienti Che loro hanno bisogno Che sia frammentato Che trasmetta Che non indici I percorsi storico-politici Di associatività Reali Tocca rischiare Ic robus Ic sal Alla contraddizione è questa Ma se non usiamo La soggettività La coscienza È un strumento volitivo Partendo da un'analisi Certo e pessimistica Vincerà non Grazie